cari amici e amiche di funghi magazine ben trovati con un nuovo video dedicato ai funghi porcini oggi ci troviamo in un bosco di querce situato nelle basse colline del piemonte settentrionale dove abbiamo trovato una bellissima fungaia di porcini estivi che abbiamo immortalato per voi so Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se vi è piaciuto questo video, mi invitiamo a lasciare il vostro like e iscrivervi al nostro canale per non perdere tutte le ultime novità. Da Funghi Magazine è tutto. Al prossimo video.